La provincia di Teramo ha commissionato un'indagine che servirà a capire la reale situazione della comunità teramane e a ridisegnare i servizi sociali sulla base dei nuovi bisogni dopo il coronavirus. Intanto, cosa è cambiato nella vita delle donne? Sicuramente è cambiato tutto, nei rapporti interpersonali, nei rapporti di lavoro, in ogni ambito nel quale la donna esplica la propria personalità ovviamente, quindi nella famiglia i rapporti sono cambiati, addirittura sono anche peggiorati rispetto a quello che è prima e i rapporti ma anche la situazione della donna, in quanto avevamo già acquistato una certa emancipazione, si va a lavorare, i figli vanno a scuola, gli anziani sistemati magari nei centri riabilitativi, nei centri per anziani, invece ad un tratto si ritrova tutto chiuso e quindi tutto si svolge all'interno della propria abitazione. Nel questionario che domande ponete? Sono domande appunto nella quale si chiede qual è la condizione di oggi rispetto a prima, se si è occupati, se si studia, se si hanno figli, se si hanno dei disabili, chi magari si occupa più del bucato e chi della cucina, perché magari sono anche domande specifiche del genere, del tipo, quante ti aiuta abbastanza tuo marito, il tuo compagno, insomma tipo queste domande qua, magari abbastanza poco, rispetto a prima di meno, cioè tante queste domande qua. Il questionario è in forma anonima e si potrà rispondere anche online? Esatto, abbiamo deciso di farlo sia in forma cartacea che online. In forma cartacea avremo praticamente i sindacati, i centri per l'impiego che hanno dato la disponibilità a farlo appunto di persona, però data la situazione, la situazione di emergenza, si è data anche la possibilità di farlo online tramite questi questionari. Quella che è l'intenzione di questo questionario, il motivo per cui è nata sul territorio provinciale, è quello di individuare quali sono le migliori azioni positive da porre in essere subito su tutti i campi per poter garantire un contesto più equo, più giusto e più rispettoso dei diritti di tutti. È diciamo innegabile che la pandemia ha impattato nelle nostre vite scoprendo il lato più fragile della società, questo è un dato sotto gli occhi di tutti. E il questionario che verrà proprio svolto a tappeto anche grazie alla collaborazione di tanti partner su tutto il territorio provinciale mira proprio a questo, a individuare il solco dove poter intervenire per superare questo divario. Volevo lasciare però una nota positiva in questo quadro preoccupante che è quello che è emerso pure dalla pandemia e la maggiore capacità dell'universo femminile non solo di adattarsi alle regole, anche quelle comportamentali, ma anche quello di avere una maggiore resilienza in generale nella crisi, ma di avere anche una prospettiva, uno sguardo più positivo e di speranza verso il futuro. Quindi questo è il compito e il fine del questionario che presentiamo oggi.